Per 25-30 ciambelline mescolare in una ciotola 90 g di vino rosso con 50 g di olio, io ho usato quello di mais, e 90 g di zucchero. Poi aggiungere 4 g di ammoniaca per dolci, oppure potete usare il lievito, e 250 g di farina 00 setacciata. Mescolare con un cucchiaio e poi impastare a mano fino ad avere un panetto morbido e anche un po' appiccicoso. Prendere un pezzettino di composto e con le mani pulite formare un serpentello e poi arrotolare tra due dita formando così la ciambellina. Fare la stessa cosa fino a terminare tutto l'impasto. Mettere le ciambelline sulla teglia rivestita da carta forno e spolverare la superficie con un po' di zucchero. Infornare a 180 gradi per riscaldato statico per 22-28 minuti. Controllate la doratura sotto che non deve essere troppo scura e poi far raffreddare prima di mangiare. Grazie. Grazie.